Amore dai, dobbiamo fare le trazioni, sei pronta? Vai a mettere il gesso, bene, ingessa bene le mani, brava, che gesso, pure con l'altra mano, pure con l'altra mano, dai, brava amore, la magnesia ti serve per fare tante trazioni, ok? Andiamo dai, vieni, va bene, va bene, sennò dopo è troppo, andiamo dai, forza, sei pronta? E uno, due e tre, via, uno, due, tre, vai, quattro, e l'ultima, e cinque! Ahaha, ghi ghi ghi!